La Regione Toscana finanzierà la via del mare o asse di penetrazione della Darsena di Viereggio? Al momento no, o meglio, lo farà solo quando sarà approvato un progetto esecutivo. Non basta, insomma, il progetto presentato dal Vice Sindaco Walter Alberici ai cittadini, con tracciata a sud dello stadio, per avere già le coperture economiche, nell'atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale poche settimane fa. Al momento non c'è nessun progetto vero approvato, tantomeno un piano urbanistico che lo consente, e quindi per adesso l'asse di penetrazione è escluso dalla manovra economica 2018, in discussione in Consiglio regionale in questi giorni. Io ricordo Enrico Rossi con il neoletto Sindaco Luca Lunardini, che ci convocò qua a Firenze e si impegnò di nuovo per il finanziamento di quell'asse di penetrazione. Il problema è che da allora, anzi da qualche tempo prima, ad oggi ancora non c'è un tracciato definito, ancora non c'è un progetto. Quindi, diciamo, questi voci di queste settimane su Viareggio, che rimbalzavano qui in regione, di eventuali finanziamenti in questa fase, da regione toscana, non so se definirle fake news come oggi di moda, ma sarà finanziata l'infrastruttura. Prima che ci sia l'infrastruttura ci deve essere uno studio di fattibilità, ci deve essere una variante al regolamento urbanistico, insieme a un progetto alla fine esecutivo, quindi in questa fase non aveva nessun senso che la regione potesse pensare di finanziare un'infrastruttura, tra l'altro con il nuovo regime del pareggio di bilancio, ormai finanziamo poche infrastrutture come regione perché abbiamo pochi soldi, ma finanziamo quelle canterabili, quindi quelle che abbiano a meno un progetto esecutivo. Una dichiarazione che rallenta i tempi immaginati dalla giunta del sindaco Giorgio Del Ghingaro, che puntava a finanziare subito l'opera.